bella a tutti ragazzi sono virgo ben tornati su gameplay channel e su medieval dynasty allora ragazzi io direi di proseguire come del resto mi avete consigliato la nostra seriozza per vedere un attimino appunto le varie altre novità che hanno aggiunto su questo fantastico simulatore di vita medievale allora intanto lo faccio con voi volevo personalizzare come avevo già anticipato nello scorso gameplay la partita io inizierei a aumentare si aumentare assolutamente i punti lo mettiamo al 200 per cento stessa cosa facciamo con la tecnologia vediamo un attimino quanto effettivamente aumenta così del doppio anzi la tecnologia magari la metterei anche al 300 magari aumentiamo al 300 anche l'esperienza tanto come detto qua mi interessava più che altro perfetto più che altro sbloccare per l'appunto il discorso dei vari edifici nuovi che ancora non abbiamo visto poi qualcuno mi ha detto che il finile in realtà io ho ancora il modello vecchio nel senso che adesso l'hanno cambiato però probabilmente io ho il modello vecchio diciamo perché questa partita l'ho iniziata una marea di tempo fa di conseguenza probabilmente la struttura mi è rimasta per l'appunto quella vecchia adesso non sto lì a demolirla e rifarla perché chiaramente mi porterebbe via un sacco di tempo ma lasciamo semplicemente questa allora io volevo anche fare un salto un attimo nella città più vicina per vedere se trovo dei semi da comprare quindi noi adesso dove cacchio siamo a noi siamo qua potrei andare a denica e andiamo a comprarci magari qualche seme perché effettivamente non abbiamo purtroppo semi per i nostri campi di conseguenza io avrei bisogno di me a parte che qua mi dice nessun edificio rimessa agricola io non vorrei non vorrei che noi abbiamo bisogno adesso della rimessa agricola che è un edificio diverso ancora dal finile a questo punto perché io scusatemi negli edifici dunque vediamo se me lo agricoltura ce l'ho il finile quindi il discorso è che però qua mi dice nessun edificio ma volete dire che devo fare perché quello sulla pietra non lo so che magari devo fare un altro edificio dedicato all'agricoltura rimessa agricola ok quindi hanno aggiunto un altro edificio che io non avevo ancora visto che spettacolo c'è anche il mulino mamma mia che figata il mulino ok no allora aspettate fermi tutti facciamo assolutamente la rimessa agricola perché in questo edificio i lavoratori vanno a lavorare nei campi e nei frutteti quindi no assolutamente io ho bisogno della rimessa agricola ragazzi ho bisogno della rimessa agricola allora il finire dov'è dunque questo è il magazzino il finile il finile dove cacchio sta il mio finile questo si questo è il finile perfetto la rimessa agricola visto che comunque qua vicino i campi cioè la farei vicino ai campi allora noi abbiamo questi quattro campi qua che avevo diviso con la staccionata la rimessa grig la possiamo fare anche qua nel mezzo dai secondo me va bene qua ma si facciamola qua tanto è piccolina per cui non c'è problema dai la possiamo fare tranquillamente qui che secondo me va benissimo dai facciamola qua perfetto dammi il martellozzo se lo trovo dove cacchio l'ho messa ecco l'ultimo era proprio ok abbiamo bisogno di pietra ok quindi abbiamo bisogno di sette pietre andiamo un po' a cercare se le becchiamo in giro se non le picconiamo ma comunque qua in teoria ce ne sono allora ok dai qua abbiamo un po' di pietre quindi le possiamo prendere direttamente di qua adesso è io quasi quasi però andrei prima a dormire allora aspettate che raccogliamo intanto un po' di pietra facciamo così dai raccogliamo un po' di pietra poi magari andiamo a dormire così facciamo anche finire l'autunno di modo che almeno ci vediamo qualcosa insomma col sole perché sennò così non si vede una mazza di nulla quindi facciamo così dai andiamo un attimo a dormire dammi solo un secondino la torciola e direi prendiamo a martellate tutti e andiamo ce ne a dormire vabbè io non mi ricordo se questa è casa mia o me sì sì questa è la nostra moglie col bambino ciao balduina va bene io me ne vado a dormire ciao ciao allora andiamo ce ne a dormire così facciamo passare questa stagione vediamo anche che cosa succede speriamo che non mi si distrugga nulla spero vivamente di no sfide quando sarà il tempo l'araldo arriverà nella tua valle soggiornando in una delle taverne locali inclusa la tua parlando con lui ti permetterà di accettare una delle sfide del re non sono compiti obbligatori ma portandoli a compimento non solo ti aumenterà la reputazione della tua dinastia ma rinforzerà i tuoi rapporti con re anche questa è una cosa molto molto interessante quindi qua ci fa vedere l'epilogo appunto del tutorial delle sfide va bene però a noi non ce ne può fregare di meno no io voglio solo vedere se non ho edifici devastati no ho solo la rimessa agricola che appunto devo finire di costruire e basta quel laboratorio mi dice che non ho abitanti ok siamo in inverno guardate che bello che è anche l'inverno ragazzi in sto gioco le stagioni sono veramente veramente belle sono veramente bellissime da vedere allora andiamo qua a completare quindi la nostra mazza come l'ho messa male o sta rimessa agricola aspetta però direi che così va bene sì decisamente meglio rispetto a prima rimane anche staccato dalla strada perfetto allora dai andiamo a mettere su la pietrozza ottimo così almeno vediamo di costruire questo edificio abbiamo bisogno di un fracco di tronchi ma quelli quali abbiamo quindi non è un grande problema così almeno vediamo di fare finalmente finalmente questo edificio che comunque un edificio nuovo perché come detto prima non c'era bastava il finile e i contadini lavoravano direttamente dal finile quindi non c'era assolutamente bisogno di questa cosa qua allora vediamo di prendere magari vabbè dammene 8 poi al massimo li riposo dopo perfetto vai butta sui tronchi benissimo tac e tac ok adesso ci serve della paglia qua ci serve bastoni e paglia fondamentalmente va bene dai andiamo a prendere andiamo a prendere due bastoni un po' di paglia poi vediamo magari facciamo una corsa giusto lì al villaggio così vediamo anche se magari nel mentre incontriamo qualche bandito bastoni non ne ho tantissimi speriamo di avere paglia perché sennò tocca andarla a prendere giù in fondo sì voglio abbiamo 73 io la prendo tutta poi vediamo poi vediamo quella che ci serve ok vai picchiamo su i bastoni perfetto sì c'ho la stamina un po' bassa effettivamente però vabbè fa niente vai picchia su picchia su ok questa l'abbiamo costruita un altro tronco mi serviva mannaggia morte pensavo non me ne servissero più vabbè un tronco poi dopo lo andiamo a prendere e anche qua ok va bene va bene allora intanto voglio mettere sulla paglia vabbè andiamo a prendere il tronco vai intanto che ci ripigliamo della stamina noi prendiamo lo tronco ok perché ho questi tutti questi messaggi qual è il problema a nel pozzo che non c'è nessuno questo ok perché la sto costruendo e bastano vabbè ok notifiche niente di niente di particolare va bene allora quindi dammi ancora facciamo un 3 tronchi io ne prenderei no che 240 col cacchio allora dammene 3 perfetto ok e andiamo a questo punto a picchiare giù tutto quello che rimane così vediamo anche sto edificio molto bellino devo dire veramente molto bellino anche questo edificio vai picchia giù così in teoria anche costruendo dovrebbe aumentare parecchio il discorso dell'esperienza e della tecnologia perché svolgendo queste azioni comunque aumenta tanto perfetto e la rimessa agricola ce l'abbiamo quindi nella rimessa agricola ha ovviamente il suo forziere ci sono gli strumenti vabbè qua possono mettere varie cose ok stavo guardando se mi dava qualche altra opzione ma direi di no perfetto allora gestiamo questo qua e a questo punto vediamo nel finile chi è che ho ha detto al finile ne ho solo uno ok solo che mo dovrei capire dovrei capire chi mettere o tiro via un minatore posso tenere un singolo minatore e quell'altro metterlo al finile allora togliamo airboard ok qua lo togliamo e lo andiamo a mettere a questo punto qua dentro in modo che mi vada anche a fare il fruttetto perché sennò che cacchio sbagliata sto anche il fruttetto non non funziona più alla fine lui ha solo due in agricoltura non è che abbia tantissimo mi conveniva togliere eroina allora facciamo così no togliamo eroina che è decisamente meglio quindi capanno di scavo allora facciamo così airboard ti rimetto lì a scavare eroina ti tolgo perfetto ed eroina la mettiamo a questo punto nella rimessa agricola dove sei? dove cacchio sei? eroina eccoti qua vai perfetto allora strumenti gli serve zappa borsa e falcetto perfetto quindi glieli lascio direttamente qua perché allora il falcetto sono sicuro che ce l'ho dov'è falcetto di pietra te lo metto qua ok la borsa ti posso mettere la borsa semplice per fertilizzare campi e seminare si e purtroppo è un po' messa male magari la craft una borsa dai magari la crafto che meglio gli serve allora falcetto borsa e cos'altro? non mi ricordo aspetta ridammelo un attimo scusami ah la zappa ok ok la zappa la zappa anche la dovrei avere ma a parte che nel magazzino mi sa che ho delle zappe anche di ferro credo adesso vado a vedere aspettate fatemi vedere qua fatemi vedere qua allora sì vediamo se intanto abbiamo qualche borsa migliore qua nel magazzino borsa semplice al 100% perfetto ah beh queste le posso anche prendere tutte allora vabbè ma tanto se le prende lei se sono nel magazzino alla fine se le prende lei se le prende lei non è non è un grande problema e vediamo se ho qualche zappa un attimino migliore sì eccola qua c'ho la zappa di pietra la zappa di legno in teoria si dovrebbe prendere tutto lei qua dal magazzino a questo punto quindi anche la borsa gliela rilascio qua ok dovrebbe andarsi a prendere tutto adesso verifichiamo ma dovrebbe essere così dovrebbe essere così contadino ok apprendista ah qua abbiamo anche l'apprendista va bene va bene gestisci assegnamento va beh qua mi fa vedere questa no stavo guardando se potevo mettere qualcosa ma direi di no anche il falcetto in realtà penso se lo vado a prendere anche da lì ma se lo poteva prendere anche di qua comunque vabbè l'importante è che gli abbiamo gli abbiamo per l'appunto messo tutto quindi linea di massima adesso è inverno quindi credo che farà poco però la nostra abitante andrà appunto a lavorare in questo caso diciamo nel frutteto e anche nei campi allora fatto questo io andrei un attimo verso abbiamo detto denica sì però magari mi tieni in mano scusami è non per sfiducia ma ecco tienimi in mano la balestra va che peraltro me la devo anche anche fare perché questa ormai è quasi andata andrei verso denica vabbè il coniglio lì lo lasciamo stare guardate che figata anche la cascata il paesaggio ragazzi è bellissimo comunque il paesaggio in sto gioco è veramente veramente qualcosa di fantastico e andiamo a comprare che madonna che spavento mi sembrava non capivo che animale era andiamo per l'appunto a comprare un po' di semi io ce l'ho aspetta nell'inventario un po' di soldi vediamo se ho moneta 851 sì hai voglia hai voglia hai voglia ne dovrei avere un bel po' insomma potrei comprarne un bel po' di semi in teoria adesso non mi ricordo cosa costano ma dovrei riuscire a comprarne parecchi non so se hanno messo anche nuovi nuovi animali cioè a parte gli insetti quelli estivi che però vabbè adesso non siamo in estate ovviamente quindi non vedremo però non so se hanno messo anche magari nuovi animali qua c'è un altro carretto rovesciato ma mi sa che l'avevo già lootato di tutto ok dobbiamo stare attenti sempre ai cinghiali ai lupi perché quelli ci attaccano ovviamente quindi bisogna fare addenzione addenzione allora andiamo di qua vedo già i tetti delle prime case perfetto e siamo arrivati a Denica allora abbiamo anche il viaggio questa è una cosa che già avevo fatto vedere tempo fa perché l'hanno aggiunto da parecchio il viaggio con la carovana che possiamo fare quindi qua possiamo intanto chiedere dove possiamo trovare le varie cose se ci serve non so un tipo di animale particolare piuttosto che una risorsa particolare lui ci dice qualcosa ma oltre a questo cliccando su bisogno di un passaggio vedete che lui ci può portare nelle varie città della mappa chiaramente la utilizzo poco non l'ho quasi mai utilizzata perché costa un fottio come avete visto muoversi con la carovana è una cosa utile sicuramente perché finché non abbiamo il cavallo ci dobbiamo andare a piedi e quindi sono viaggi veramente lunghi da fare però costa veramente tanto quindi al momento evito di utilizzarla perché insomma soldi non se ne fanno così facilmente qua c'è una bella balestra di legno è ma al 33% possiamo anche rubare come su Kino Candeliverance ovviamente possiamo anche rubare all'interno delle case e gli altri ovviamente se ci beccano andiamo a perdere reputazione quindi anche questo conviene non farlo a meno che insomma non siamo sicuri che non ci becchi nessuno qua è un falò dove possiamo reclutare persone sto cercando non insediamente sto cercando brave persone disposte a unirsi a me sto creando scusate quindi cliccando su questa frase praticamente possiamo andare a reclutare nuovi paesani in questo caso non lo faccio perché vabbè non abbiamo una casa libera qua ci sono gli animali che possiamo comprare in questo caso le caprette ma vedete costano quella capretta piccola 1.400 quella adulta 2.800 addirittura però posso vedere con Eualda dove posso trovare animali selvaggi mercanti allora mi serve agricoltura contadino agostovia denica ok quindi qua c'è il contadino ok quindi vediamo un attimino scusami Dagoberta sto arrivando qua Dagoberta allora quindi mi devi dare i semi di lino sicuramente te ne posso prendere mazza quanto costano te ne prendo 20 dai ti prendo 20 semi di lino ti prendo una ventina di semi di cavolo perfetto sta a spendere tutto praticamente e ti vado a prendere anche un po' di grano tipo di grano no di aveno di segale per il momento non mi interessa ti prendo anche magari una ventina di grano non è solo 24 io te ne prendo 20 e siamo a posto ho speso praticamente tutto ho speso praticamente tutto vediamo se posso vendergli qualcosa magari c'ho c'ho qualcosa ma no direi direi di no dardo di legno no da venderti non ho preso niente vabbè quello poi al massimo vengo io vengo io un'altra volta a venderti qualcosa dai magari faccio un po' di coltelli di pietra queste cose qua e poi e poi andiamo andiamo poi a venderli ok va bene dai direi che possiamo a questo punto tornare indietro vado a mettere le risorse nel nostro nel nostro magazzino in modo da in modo da essere pronti ok allora vediamo intanto carichiamo un attimo la freccia perfetto perché tornando indietro se magari vedo nuovamente qualche cinghiale qualcosa ci possiamo anche prendere un cinghialozzo eccolo là la vedo già un bel cinghialozzo quindi andiamo giù con calma ok allora vediamo se riesco a beccare un cinghiale ho deciso a beccare in testa non sarebbe male allora scusi cinghialo perché un bel cinghiale ci dà anche un bel po' di pelle mazzato seccato al primo colpo porca miseria che botta che botta ragazzi andiamo anche un po' a caccia così ci portiamo a casa un po' di carne beh che cacchio ho preso l'albero mortacci ma ho preso l'albero o l'ho preso no no ho preso l'albero ok ma l'ho preso ma non l'ho preso in testa dai carica ok mamma mia preso preso per un pelo preso per un pelo vai prendiamo i cinghialozzi così andiamo prendiamo un po' di carne un po' di pelle che sempre ci può tornare utile riprende vedete tre di pelle e otto di carne addirittura ottimo così almeno un po' di un po' di cose le abbiamo ok perfetto ci siamo ripresi anche il nostro dardo di legno allora mi è comparsa un'altra icona fatemi vedere dove è il problema allora finile perché non hanno risorse ok e questo perché non hanno risorse va bene la borsa l'ha presa vedo 11 di 30 vediamo vabbè il falcetto non so se gli serve al momento perché tanto non c'è nulla da raccogliere siamo in inverno quindi non penso possa raccogliere nulla però io in ogni caso magari per sicurezza quelle cose lì le metto nella cassa del finile va così c'è nel senso dell'edificio nuovo che abbiamo appena costruito così sono sicuro che effettivamente le possa le possa utilizzare perché in teoria gli attrezzi che servono ai vari ai vari paesani nostri se li dovrebbero prendere anche se sono nel magazzino o comunque sparsi nelle varie strutture l'importante è che ci siano da qualche parte ecco almeno io ero rimasto a questa cosa poi adesso non lo so se l'hanno cambiata sinceramente però vabbè nel dubbio io gli metto perché vedo che qua sta scopazzando per terra ma non sta a fare una mazza quindi nel dubbio vabbè io gli metto intanto tutti i semi che abbiamo appena comprato gli li metto direttamente qua sì sì mettili tutti questi mettili tutti semi di lino ok poi cos'è che ho preso? ha il grano perfetto gli mettiamo anche tutto il grano glielo mettiamo qua e siamo a posto perfetto poi il falcetto qua glielo ho messo e basta in teoria anche la zappa ce l'ha dovrebbe avere tutto credo però io nel caso anche la zappa e le cose gliele metto lì quasi quasi una zappa e una borsa io gliela metto lì magari tanto borsa ne abbiamo potrei andare a vendere anche le borse infatti le sto craftando per venderle peraltro perché comunque ce le pagano abbastanza bene la zappa andiamo a prendere quella di pietra ah ne ho 12 la madonna quante zappe c'ho vabbè allora due possiamo vendere anche le zappe in questo caso due le prendiamo a questo punto e gliele sparo qua dentro ok così almeno gli vado a mettere tutto borsa semplice vai e gli andiamo a mettere a sto punto anche la zappozza vai sì sì te le metto tutte e via così ha tutto qua in teoria dovrebbe avere tutto vediamo di capire adesso perché mi dice che è sempre senza risorse senza risorse ma non capisco cosa ti manca apri dettagli no qua mi apri dettagli su questo qua vediamo che ha tutto quello che gli serve quindi senza risorse lavoreranno nei campi e nei frutteti ah forse il fertilizzante gli manca ecco forse cos'è che gli manca porca cacciaboia gli manca il fertilizzante ora il fertilizzante si fa con la roba marcia che c'era qua mi sembra che lo fanno e non solo uno però marciume esatto il fertilizzante se non erro si fa qua sempre nel finile viene fatto adesso andiamo a vedere un attimo perché mica mi ricordo se non erro qua si esatto fertilizzante con 10 di marciume probabilmente mi dice risorse insufficienti perché ci manca il marciume oppure il il fertilizzante si utilizzando il concime e allora potrebbero essere utili anche i maiali da questo punto di vista potrei mettere un piccolo allevamento ai maiali il casino è comprare i maiali perché costano un fottino anche quelli quindi non è non è semplice perché i maiali ovviamente producono cacchina e di conseguenza grazie a quella possiamo andare a insomma a fare un bel po' di fertilizzante allora la carne la mettiamo via quella essiccata me la tengo perché comunque mi può servire ando a mettervi anche la pelle ma qua a marciume qua ce ne sono solo 4 eh casino che qua a marciume ne ho solo 4 carote ne ho un sacco 95 addirittura carne di pesce stiamo iniziando anche a fare carne di pesce perfetto e niente devo aspettare che facciano il marciume fondamentalmente perché mi sa che gli manca il fertilizzante a lei o lo vado a comprare ma anche il fertilizzante costa un fottio e io non ho praticamente quasi più soldi quindi dovrei andare ho 67 monete dovrei andare a vendere un bel po' di roba tutte quelle zappe quelle borse fare soldi e andare a recuperare fertilizzante però magari lo possiamo fare eventualmente nel prossimo episodio eh volevo vedere nella cucina che cosa stiamo facendo allora stufato ok possiamo anche a questo punto andare a fare allora la carne arrostita la abbassiamo un po' e la mettiamo al 50% lo stufato lo possiamo mettere al 20% perfetto perfetto posso fare a sto punto il pesce arrostito ok così possiamo fare anche questo e lo mettiamo magari al 30% ok poi tutto il resto è bloccato dovrei dovrei andarlo a sbloccare però vabbè piano piano poi lo possiamo fare però intanto riusciamo comunque a fare il nostro stufato che andiamo a fare con carote e carne quindi almeno le carote le utilizziamo per fare un bello stufato direi che ci sta direi che ci sta assolutamente e niente purtroppo qua devo aspettare perché non possiamo fare nulla chicchi di grano un tipo creato dal grano dell'aio del finile cucinare nella cucina ok però forse io avevo il fertilizzante col concime ma il concime non ce l'ho o il fertilizzante normale con 10 addirittura di marciume ma mi servono 10 di marciume mi servono 10 di marciume e non è facile porca miseria vabbè niente vediamo vediamo un attimino di farlo ma il grano aspetta ma scusami il grano io ne ho portati 10 perché mi dice che non può farlo vuoi dire che non se le va a prendere da quale risorse eh no mi sa di no mi sa che non se le prende di quale risorse allora queste gliele devo prendere intanto e io spero che i semi se li vada a prendere a sto punto perché mo mi viene il dubbio ragazzi chiedo a qualcuno di voi che magari ha continuato diciamo a giocarci se hanno cambiato questa cosa ovvero diciamo così la condivisione delle casse di vari edifici perché prima come detto bastava mettere le risorse in una cassa diciamo del del nostro villaggio in particolare magazzino e dispensa loro si andavano a prendere tutto ora io non lo so provo a rimettergli tutto a sto punto allora i semi li rimetto magari in dispensa e l'altra zappa anche glieli metto in magazzino perché sono sicuro che prima le cose se le andavano a prendere dalle casse del magazzino e della dispensa credo che sia rimasta così questa cosa quindi se io metto tutto qua in teoria se la dovrebbero prendere quindi gli metto il falcetto di pietra la borsa gliel'ho messa e gli vado a mettere anche le zappe di pietra e gli metto tutto qua in teoria se le dovrebbe prendere da sola la nostra ragazza poi ah no spazio insufficiente porca miseria cioè non posso lasciargli la zappa quindi ah vabbè ma almeno una sì ok vabbè almeno una no neanche vabbè ma le ha le zappe comunque che scemo ne abbiamo una marea qua di zappe sì infatti ne ha dieci a voglia le ha le ha queste poi al massimo me le vendono non è un problema anche i borsi in realtà le ha quindi siamo a posto mentre i semi a questo punto io li vado a lasciare in dispensa e vediamo o nel finile eh boh vabbè io li metto in dispensa ragazzi poi poi vediamo io per adesso li metto in dispensa in teoria dovrebbero avere accesso tutti alla dispensa eh questo vabbè il grano glielo metto direttamente nel finile così vediamo se eh se da lì lo prende ok e semi di lino glieli mettiamo qua perfetto ok boh così dovremmo avere tutto mentre il grano mentre il grano glielo vado a mettere direttamente direttamente no direttamente nel finile e vediamo se se lo vanno a utilizzare l'ugrano perché in teoria se io adesso gli metto il grano qua eh quel crafting lui lo dovrebbe poter fare questo qua fa una mazza sto maledetto e qua che se sta grattà eh quindi ah infatti il grano adesso me lo fa vedete ok il grano me lo può fare eh devo capire il discorso della rimessa agricola eh non so lei cosa stia aspettando ma secondo me sta aspettando il fertilizzante perché non mi pare che qua dica cosa gli manca mi dice senza risorse eh sì però non mi dice che cosa che cosa manca almeno poi come detto non so se magari ci sia modo di vederlo da qualche parte però io qua non riesco sinceramente a trovarlo mi dice semplicemente senza risorse e basta ma in questo caso penso che sia sinceramente il eh come si chiama eh il fertilizzante a mancarle quindi vabbè nel momento in cui abbiamo il fertilizzante dovrebbe in teoria funzionare tutto al massimo infatti vedete lui adesso si è messo a craftare perfetto eh nel momento in cui abbiamo il fertilizzante in teoria a lei si dovrebbe mettere a eh lavorare al massimo nel prossimo episodio per andare a comprare un po' di fertilizzante vediamo se effettivamente lei inizia a lavorare eh va bene ragazzi comunque io direi per il momento prima di momento che mi posso fermare qui con questo nuovo episodio dedicato a eh Medieval Dynasty abbiamo visto anche una nuova struttura quantomeno nuova per me perché sinceramente io è la prima volta eh in assoluto che la vedevo ovvero questa rimessa agricola devo dire veramente molto bella anche questa tutte le strutture sono sempre eh curate molto molto bene e quindi mi piacciono sempre un casino per cui interessante aver scoperto che comunque adesso i contadini hanno bisogno di una struttura in più oltre ovviamente al eh finile magari nel prossimo episodio oltre a vedere il discorso del fertilizzante vediamo anche di eh portare un po' avanti la mitica storia di Unigos così da vedere anche lì se magari c'è stato qualche eh cambio e qualche eh miglioramento detto questo ragazzi quindi io vi invito come sempre a lasciare un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivete al canale se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo anche al canale come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti youtube altrimenti grazie di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti vi ringrazio di saluto ci vediamo nei prossimi gameplay ciao belli